Cappellino bianco, pantaloncini da basket e dalla moda di colore scuro, sneakers e quella voglia di rubare e depredare a guidare un ragazzo per le vie di Martinsicuro. Spavaldo, sicuro di sé, percorre via Puglia, sfonda il finestrino di un'auto e si insinua all'interno per cercare di rubare qualcosa. Poco dopo lo raggiunge un complice, ma non sanno che le videocamere di sorveglianza poste in zona riprendono tutto. I Martinsicuresi sono stanchi, anche perché si tratta del secondo raid vandalico nel giro di una settimana. Il primo era andato in scena in Via Pellico e già una rida di polemiche. I carabinieri dovettero arrivare da Campli perché le altre pattuglie erano tutte impegnate in servizi alternativi. Il raid sarebbe avvenuto attorno alle 4.30. Dalle immagini e video si può vedere che erano felici, tranquilli e addirittura uno di loro pare ballasse in mezzo alla strada. Da qui l'indignazione ed il senso di impotenza che sale e si trasforma in rabbia. Da tempo si chiede infatti un distaccamento fisso di polizia e non solo un presidio estivo o comunque un aumento degli uomini a disposizione della locale caserma dei carabinieri.